Mentre la regione ritiene necessario il proposito di voler abbattere a partire da metà ottobre 469 cervi tramite caccia di selezione, si allarga il fronte contrario alla delibera regionale dell'8 agosto scorso. Le voci critiche stavolta arrivano dal cosiddetto show business, ovvero il mondo dello spettacolo. Il primo a far sentire la sua voce è Riccardo Milani, regista del film Un mondo a parte, girato proprio in Abruzzo, non lontano da quei territori in cui si vorrebbe lasciare spazio ai fucili. La percezione netta, dice Milani nel suo appello, è che la questione non riguardi solo le associazioni ambientaliste e animaliste ma direttamente la gente d'Abruzzo terra con una storia centenaria di tutela ambientale faunistica. Tutto questo, continua Milani, rischia di diventare un provvedimento largamente impopolare sia nel panorama abruzzese che su quello nazionale, creando un grave danno d'immagine proprio all'Abruzzo. L'appello del regista è stato rituitato sul suo profilo anche da Alessandro Gasman. Sullo fronte più interno il WWF Abruzzo continua la petizione online che naturalmente può essere firmata da tutti. Il punto con il delegato regionale Filomena Ricci. Come WWF, ma appoggiati anche da tante altre associazioni, ci stiamo opponendo in tutti i modi a questa delibera. Abbiamo lanciato una petizione online che in pochi giorni ha superato le 75 mila firme. Con questa petizione chiediamo certamente che la regione ritiri questa delibera perché riteniamo che non sia la soluzione sparare agli animali per risolvere per esempio i problemi dovuti ai danni all'agricoltura o il rischio di incidenti stradali. Chiediamo quindi anche di aprire un tavolo di discussione coinvolgendo esperti, professionisti, competenze che sicuramente in Abruzzo ci sono per trovare soluzioni complesse a un problema che è sicuramente difficile e che non potrà essere affrontato soltanto con le doppiette. Inoltre pensiamo che l'Abruzzo debba potenziare la sua immagine di regione verde, di regione dove è possibile incontrare gli animali liberi facendo una passeggiata e questa immagine con questa iniziativa, questa delibera con la caccia di selezione al cervo potrebbe essere fortemente compromessa.